Settimane di riposo per il girone M della serie B2 femminile di volley che riprenderà nel weekend del 4 febbraio con la prima giornata del girone di ritorno. L'Alba Verde riprenderà il suo cammino a Reggio Calabria al Palacalafiore contro la Volley Region per dimenticare la sconvitta sul campo della capolista Zafferana. Le pallavoliste nissene, attualmente al terzo posto in classifica, non dovranno più permettersi passi falsi per non staccarsi dalla squadra etnea e dalla pallavolo Crotone che insieme all'Alba Verde si giocheranno la promozione sino alla fine. L'idea della società presieduta da Oriana Mannella è chiara e si tenterà di salire di categoria e per far questo nel girone di ritorno si dovranno affrontare le partite per tentarle di vincerle tutte. In questa prima parte di stagione si è vista un'Alba Verde giocare delle bellissime partite tra cui si sono distinte alcune pallavoliste come Jennifer D'Antoni, Alessia Angilletta e Valeria Lamattina su tutte, risultate molto volte i migliori in gambo.